Se sei? Stai riprendendo? Stai riprendendo? Devo essere seria qualche vacca, ditevi una cosa brutta e ti poi devo dire no grazie perché non è che ci sto a fare quella roba di me, grazie! Mi lavo i capelli Adesso riprendi e mi faccio, e quindi? Sto riprendendo eh, aspetta aspetta Vado? E quindi? No grazie Prima te Quindi, come ti stavo dicendo, ne facciamo tantissime cose, facciamo la cacca, la pipì, la pupù La pupù Più dentro! No, rifai Un progetto eclatante Non c'è quello che stavo a dire Ah sì, quasi sempre Perché noi lavoriamo con il cuore Martina, ma lo sapevi che i dati ISTAT indicano nelle professioni di servizio alla persona, la presenza femminile? Non c'è qualcosa a me non mai stavo No grazie Beh, l'ho sbagliato Nooo I bambini e i giovani hanno bisogno di modelli Cancel Che sei guardando là? Wow, che ne mangia! 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 Che sembriato te che puoi mangiare bom Direi che cosa sta Se io adesso ti sto parlando Il gesto mi viene meglio Se invece non sto dicendo niente Faccio fatica Adesso Non credi che questo sia un po' lo scopo del tempo? Sì 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 E quindi questo discorso è quello che mi dico Insomma Basta Scesi e abbracciavo la mattina Sì sì Che devo abbracciare la mattina? Ah sì Voglio dire Deve che spina Caffè? 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 No grazie